per le tante ragazze la sua potenza tra voci qua su bassi mulettro 18 su xbox one ragazzi benvenuto in modo di vedere il mio canale come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi se volete e non siete ancora fatte non siete ancora e un bel mi piace ragazzi per supportare la serie ragazzi questo video cosa facciamo facciamo allora nella parte nuova che abbiamo sbloccato nell'ultimo video e giustamente nell'ultimo video abbiamo sbloccato col bus il bus cng o cng chiamata come volete comunque ci ha dato da sbloccare dobbiamo fare praticamente ci dice boh unlock the main station questo qua quando vi da la parte nuova che è questa qui vi da comunque la main station quindi l'avete già sbloccata poi dice di usare il secondo punto è usare driver anche più di uno per generare quindi un un reddito un guadagno diciamo con una rotta con massimo otto fermate che devono connettere main station ovviamente si parte sempre da lì Shatterfield e Steinec allora vi faccio vedere il main station il main station e il Steinec è questa qua questa rotta qua la potete copiare allora si parte da ah beh ci sono due che lampeggiano le vedete in centro si parte le seguite la linea viola io l'ho fatta così e la prende buona poi appena dovete la cosa importante è che voi dovete praticamente creare la tratta guidarla e successivamente assegnare un guidatore se non sapete come farlo scrivetemelo nei commenti perché non è difficile comunque se per caso avete qualsiasi problema non chiede no si non chiede chiedete pure non avrò problemi a rispondere allora quindi ricapitolando se voi dovete diciamo questo qua è il secondo punto questa seconda linea quindi cosa ho fatto l'ho creata l'ho guidata e successivamente gli ho assegnato un altro guidatore quindi sì si può diciamo bisogna fare così altrimenti se voi la create ci mettete subito un guidatore diciamo che lui non sa la tratta anche canacavolata però dovete farla prima voi e questa allora questa è la prima poi andiamo a vedere se il terzo obiettivo use the drivers to generate income without maximum 9 stops quindi usa driver o quello che vuoi per generare entrate con una rotta massima da 9 stop che vuol dire allora che deve connettere main station ovviamente minimo uno stop che è la agricoltura agricoltura zone e industria praticamente due sto due fermati due fermati ho creato la questa linea qua che è la 28 no questa qua l'ho fatta di prova no perché aspetta line e mi sa che a eccola qua eccola qua eccola qua la 26 la 26 vedete partiamo dalla main station andiamo io ho fatto due fermate in più lì di fisher ground poi ho fatto due fermate al corn street e poi due e serve la linea blu e due in nella zona industriale quindi vedete si parte da diciamo dalla stazione a sinistra nella sotto la old town si passa per shopper anche se non era indicato però l'ho fatta perché tanto erano 8 fermate al massimo ne ho fatte 2467 mi pare o addirittura 8 e quindi ragazzi diciamo questa qua è l'altro obiettivo adesso tecnicamente io ho fatto questa il che è la 29 dove devo fare la main station shopper ground si guardano e oakville allora come potete vedere ho fatto l'ultima linea che parte dalla main station vedete poi va seguita la linea marrone rossa non so un colore strano e parte dalla main station poi si va a shopper ground quindi ho fatto queste tre fermate diciamo lì poi si va su ho fatto old samwin old sawmill e poi oak street poi siege walden tutte e due mi pare e poi finisco a lido perché è così il mio capolinea diciamo lo chiamo così dalla stazione a lido è tutto lì quindi adesso tecnicamente io ragazzi facendo l'ultima nuova tratta main station shopper ground allora quindi potrei farla da 5 fermate ma la faccio da 8 no 7 massimo quindi io la faccio da 6 allora main station shopper ground e spokes of business park quindi station shopper ground e spokes of business ground quindi andiamo su new route spero di ricordarmelo allora spokes of business park è praticamente è questo qua astra park il business qua dove fanno il business è qui allora abbiamo detto main station quindi potrei farla qui visto che ferma no io metto qua ma stesso perché questo qua main station però non mi fido volendo ne posso fare tutte e due vabbè poi andiamo di qua ecco guardate così la faccio dritta dritta shopper ground è qui una e due e siamo già a tre poi mi faccio una fermata a lido giusto così che sono di strada anzi no ne preferisco fare qua dai andiamo dritti di qua facciamo 4 5 e poi giriamo qui a destra e 6 e finiamo qui così in teoria anzi no togliamo questa si si no 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 lasciamo mettiamo questa dai e in teoria con queste 6 fermate ci siamo adesso salviamo e andiamo a guidarcela subito ragazzi ragazzi allora allora ho cambiato una fermata che non è una fermata che non è che è senza guidatore vabbè comunque andiamo guidarcela subito ragazzi allora ho cambiato è vero anche gli advice e le pubblicità le sue bus sono così sono un po più carini allora il mio bus preferito adesso è il citaro ma così so che posso scegliere quello ragazzi metto dei la cassa ok simplified realistic vi ho detto ragazzi cambia poco anzi da più fastidio che che non è che non cambia niente a livello di guida quindi quick start ragazzi hanno visto neanche quanto era al retardo da tre perché ragazzi ho il piede pesante ma nella realtà noi ragazzi e mi raccomando è un sicuro e quindi in teoria sono a posto retardo al messo luci spente no perché la ticket machine va beh ma siamo di giorno non mi serve quindi vamo freccia togliamo l'imitatore e non mi ha preso e non me l'ha preso ragazzi mamma mia non mi ha preso la freccia il bonus vedete che bello che è sbagliato la luce no la luce la visuale quanti che eccomi qua allora single regular 1 ciappa qua 280 ok tu che vuoi ticket allora single regular 1 30 e che cavolo ma te li do tutti da uno così pari ok allora chiudiamo le porte biglietto biglietto bo tu e te lo faccio io adesso è tu signora aha e qua c'è ancora un furbacchione eccolo qua no tu l'ho già visto è vero ok no tutto lì poca gente oggi poca gente ragazzi ok adesso dobbiamo andare dritti e ovviamente semaforo è rosso e che cavolo però sta musica chi è qua tu signorina e che cavolo è boh semaforo è ancora rosso scusa la musica no e eh no ok mi sono messo anche in una posizione un po' che cavolo che non vedo il semaforo è verde? no è verde per i pedoni ok adesso è verde allora prossima stazione workers hall workers hall si hanno prenotato la fermata vedete vi appare anche qua nel display il coso blu ah non posso zoomare mentre vabbè oh devo imparare a mettere la freccia uh dai che è verde che è? ah un mio collega oiii ok portato a un minuto di anticipo eccolo qua il mio collega guardate che belli che sono eh no non mi fermo qui mi fermo più avanti ok intanto metto la freccia a sinistra così le macchine che arrivano si fermano allora ticket ah oh è qua l'ingresso eh ah no niente biglietto niente biglietto ah si ora mi faccio vedere io eccolo qua tu ragazzi ti siedi anche dietro di me proprio che furbo che sei signora lei eh si si so che l'ho vista però è proprio un furbo eh no mi interessa guarda quante volte voglio ok noi dobbiamo andare a destra il nostro collega va a sinistra che in teoria sarebbe dipendente però vediamo che è verde approfittiamo ok allora io quando entro nelle fermate dovrei mettere la freccia forse la metto troppo tardi vediamo un po' io la metto già adesso eh vedi che me l'ha preso adesso eh io metto subito la freccia a sinistra così le macchine si fermano ragazzi ok biglietti nessuno deve fare biglietti tu come caspita cammini guardate lì Michael Jackson abbiamo allora uh dei regular no ma non potevi fare quello wiki che mi pagava di più eh mannaggia allora dei senior uno ciappa qua 4,60 anche a te maledetta eh vabbè dai biglietto 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 te l'ho fatto io non mi interessa è tu? è tu questo è il telefono ok biglietto biglietto ah adesso ce l'hai il biglietto vamos dobbiamo andare ecco dobbiamo ecco qua c'è il velox quindi attiviamo il limitatore ah ci facciamo questo punto ragazzi che non l'ho mai fatto spettacolo ma vabbè mia vabbè dai avevo messo la freccia perché avevo cambiato corsia poi dovevo girare anche loro eh vabbè dai fa niente uh che bello il treno passa di qua noi passiamo di qua di là c'è un altro ponte quello che facevamo sempre questo ponte ragazzi non l'ho mai fatto ah ho capito dove vengono a fare questo incrocio maledetto dove tiravo giù sempre questo palo qua io ragazzi quindi qua conosco io in teoria quindi dovrebbe assegnarmi adesso e dovrebbe assegnarmi un dovrebbe assegnarmi un praticamente il bonus value per la scorsa tratta ed è quando attivo questa prossima tratta eh vedete io la freccia l'ho messa però ragazzi l'avete sentita e vista no perché che cavolo ragazzi è vero che scemo che sono perché mi sono fermato qua mamma mia è perché avevo messo l'ido poi ho detto no non la metto l'ho tolta è che nella mia mente è rimasto il lido ragazzi comunque linea 30 ragazzi linea 30 ragazzi ok ok ma ci sono queste rotonde malefiche che proprio non le sopporto tu dove vai ok ha girato hanno prenotato la fermata t'apposto tu fermati lì ok freccia perché è tutto un vibreo qua comunque il gioco ancora tutto in inglese eh ragazzi non c'è niente da fare ecco qua c'è sempre la coda questa mi mancava a me non venire per di qua perché trovavo sempre mille persone e sono tutte con la radio a bombazza eh ragazzi avete notato guardate se mi avvicino senza fare incidenti sono tutte con la radio in bomba e tutti che ascoltano la stessa canzone è quello il bello è quello che mi fa ridere a me ascoltano tutti con la stessa canzone in bomba e beh complimenti per il produttore che l'ha fatta per il cantante il musicista che l'ha fatta perché si fa una barca di soldi perché tutti l'ascoltano quindi ok prossima fermata è qua non so perché certe fermate sono in viola e queste no e perché c'è un puntino bianco sulla mappa forse che ne so un bug vabbè come questa dovrebbe essere l'industrial che cavolo è ok devo fermarmi qua io perché l'han prenotata oh vedete che mi ha dato oh che cavolo però eh salute eh very punch avevo due minuti in anticipo che sia te quella cavoli fermata sbagliata biglietti buongiorno uh week regular ragazzi qua sono sordi eh tanks no faccio vedere io il tanks ti faccio vedere io il tanks qui è qua tu e tu eh tutto a posto solo uno abbiamo beccato oi chi ha sporcato è tanto tu eh non te ne che guardi fai finta di niente non si sporca il mio autobus che è nuovo ah guardate tanto un altro mio collega ma qua ce ne dovrebbero passare abbastanza perché sono le linee più trafficate dove portano più di nero east spokes io qua devo dare la precedenza ma non arriva nessuno ah qua devo fermarmi uh ok vedete che il retarder a 3 fa il suo dovere so che si dovrebbe usare per frenare ma io ce l'ho sempre attivo quindi va bene ok biglietti oh che scatole però chi è qua che cavolo chi è perché ha detto move la porta non si chiude ah sto qua oh si è buggato signore oh ma si è buggato mamma mia ah no deve fare biglietto duration week type regular uh bello questi sono soldi ragazzi qua sono soldi eh aspetta un momento che metto la freccia intanto allora week regular 2 ciappa qua ah ma gli dati giusti ah vabbè biglietti biglietto biglietto lo metterai e tu e te l'ho fatto io ok andiamo astra promenade adesso last stop lift bus ragazzi ok piano eccolo qua mio collega tu giri perfetto qua non arriva nessun pedone posso andare tranquillo ok peccato che ho preso quella fermata sbagliata maledetta eh vabbè dai uh qua qua è il coso il garage quindi lo fermo qua così recupero ragazzi lo scesi tutti sì andiamo ragazzi andiamo ok ok entriamo nel garage ok quindi freno a mano vedete ragazzi spegnere i fanali ok apriamo la porta solo davanti vediamo via retarder e spegniamo il motore ok perfetto fatto trip terminated at the bus garage dai eh dammi il coso dammi il nuovo ah che cavo per quasi poco ragazzi non facevo vabbè comunque abbiamo un sacchissimo di soldi quindi back quindi in teoria adesso andiamo a vedere se mi ha sbloccato l'ultimo ok adesso il penultimo cioè quindi adesso devo mettere un devo mettere un autista sulla linea 30 quindi andiamo su copriamoci un bus prima ok ovviamente compro sempre l'ultimo questa mod qua che mi hanno dato perché ho preso il gioco in accesso anticipato in preordine ecco dai ce lo compriamo 150.000 ragazzi non costa niente e porta un sacco di persone customize ovviamente ci mettiamo gli advice la pubblicità ok apply ok adesso ci andiamo a prendere quindi un una tipa Sasha Nicole eccola qua Nicole Kolb va bene e la segniamo quindi route planner sulla linea 30 gli diciamo assign driver abbiamo questo qua che non ha nessuna linea e gli diamo l'ultima Nicole tac perfetto facciamo back adesso lui non me lo dà perché perché devo farmi un'altra devo farmi io una linea però ne faccio una piccola off camera che ho già fatto vediamo 12 minuti 15 10 14 20 caspita 10 27 8 minuti 5 minuti 41 ecco mi faccio questo qua off camera ragazzi vediamo se mi sblocca tutto ok ok eccolo qua ragazzi abbiamo sbloccato harbor administration ok perfetto ragazzi dobbiamo fare le stesse cose io voglio mettere le transport to work on time in the morning in the morning ok vi ricordo ragazzi che più autobus mettete più va la linea ok ragazzi abbiamo quindi una nuova una nuova port harbor una nuova zona vediamo un po' e che zona mi ha dato vediamo ma ma scusa qual è la nuova zona che mi hai dato ah ok port harbor si è tutto lì 4 fermate mi ha dato in più e basta non ne vedo altre ragazzi non ne vedo altre perché e vabbè e vabbè ragazzi va bene ha cerrato 4 fermate in più amen cos'è ragazzi quindi io mi fermo qua se questa serie vi sta piacendo ovviamente mettete un bel mi piace ragazzi iscrivetevi al canale come se avete fatto e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao